Finalmente è stata messa una pietra tombale rispetto a quell'opera oggettivamente impattante che non condividevamo per quanto riguarda il territorio di Trieste. La stessa proponente, ovvero Gas Natural, rinunciando all'opera ha messo fine a un iter che è durato 14 anni. Il rigassificatore non si farà. Al termine della seduta di giunta che ha ratificato l'uscita di scena di Gas Natural, il presidente regionale Massimiliano Fedriga ha voluto subito annunciare una notizia forse nell'aria ma che appunto andava a suo dire sottolineata. Per il resto il governatore non si è sottratto ad una serie di domande sulla legge Omnibus passata stanotte in Consiglio, innanzitutto precisando. Questa era una PDL di iniziativa consigliare che hanno deciso ovviamente di inserire argomenti importanti e di emergenza ma normalmente l'Omnibus la fa alla giunta recependo tutte le istanze e le richieste che arrivano dal territorio per cercare di dare soluzione ai problemi. Penso che sia una delle prime volte che viene data questa possibilità al Consiglio rispetto al passato dove c'era stata sempre una giunta predominante. Io penso invece che far lavorare il Consiglio dal punto di vista legislativo sia un valore aggiunto. Ricordo che in passato il Consiglio lavorava solamente per dare i microfinanziamenti puntuali. Recepite dunque le istanze come dire consigliari presenti nella Omnibus Fedriga precisa perlomeno i tempi della legge Omnibus di iniziativa giuntale. Faremo penso entro un mese o un mezzo e mezzo un Omnibus ovviamente divisa per settori rispetto alle esigenze del nostro territorio. Sull'Omnibus che sarà varata dall'esecutivo regionale Fedriga anticipa nulla fa capire però che essa si integrerà con le altre leggi che la giunta ha in animo di approntare. Abbiamo dei progetti di regi in Pontarti, penso all'assestamento che andrà a luglio penso alla norma quadro sulla famiglia che verrà proposta dalla direzione appunto del lavoro che è la competenza per quanto riguarda la famiglia penso alla norma sulla riforma delle autonomie locali penso alla norma sulla riforma della sanità penso alla riforma e la norma sulla caccia insomma quindi ci sono diverse iniziative consistenti che si svilupperanno quest'anno. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!